Buon pomeriggio a tutti amici, primo video dell'anno. Allora, prima cosa auguro un 2023 raggiante a tutti i miei followers e a tutti coloro i quali mi vogliono bene. Allora, anno nuovo, tra poco riprende la nostra Serie A, torna in campo la nostra Inter in una grande partita contro la Capolista. Infatti domani farò il video Vigilia Inter-Napoli. Ma oggi voglio parlare di un argomento che negli ultimi giorni ha fatto discutere. Perché, come sapete, è ufficiale il passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al Nasr, squadra dell'Arabia Saudita. E, girando sul web, diciamo, ho scovato una dichiarazione che Ronaldo fece nel 2015, eccola qui in sovraimpressione, che ha scatenato non pochi commenti da parte degli utenti. Chiaramente una parte ha criticato Ronaldo per questa scelta, un'altra parte invece l'ha giustificato perché sono tanti soldi, eccetera, eccetera. Allora, qual è il pensiero del sottoscritto? La dichiarazione che ha fatto è chiara, ve l'ho fatta leggere e vi dico la mia. Allora, io non sto qui per criticare Ronaldo. Anzi, per me non è che ha fatto bene, ha fatto più che bene perché, signori miei, alla sua età, prendere quella vagonata di milioni è da folli rinunciare, da folli. Quindi ha fatto benissimo, benissimo. Però, c'è il però, che quando sono passati, sette anni fa sono state fatte queste dichiarazioni, voglio finire in un grande club, in un top club, la dignità, eccetera, eccetera. Io ho questo critico ai giocatori, che non si devono dire certe cose, perché poi nell'epoca dei social, poi ci si ricorda tutto. Anche i giocatori che fanno dichiarazioni d'amore alle squadre, non si fa. Allo stesso modo, Ronaldo che dichiara non voglio finire in quelle squadre Stati Uniti, Arabia, Doha, non si fa, perché poi il tempo passa, gli anni passano, le cose cambiano, e alla tua età, 38 anni, ti ritrovi ad andare in Arabia Saudita, dove il calcio conta ben poco, ma ti riempiono di milioni. E quindi tu, alla tua età, accetti per me, giustamente, di prendere una barca di soldi. Però siamo lì, i giocatori devono imparare a non dire certe cose, perché la vita è imprevedibile e perché non bisogna mai dire cose che non si possono mantenere, ok? Cioè, delle promesse che non possono essere mantenute, non si fanno. Quindi io non critico Ronaldo per la scelta in sé, perché fondamentalmente rinunciare a 200 milioni di euro l'anno, 5 anni e un miliardo, è veramente stato da folle. Nessuno avrebbe rinunciato a un'offerta del genere, soprattutto alla sua età, a 38 anni. Però io critico il fatto che, appunto, certe cose non si devono dire. Lui queste dichiarazioni le ha fatte nel 2015, quindi era un momento in cui era al top della sua carriera, quindi principalmente in quel momento non ci pensava nemmeno alla fine della sua carriera, e quindi ha detto queste cose sbagliando. Però la scelta, onestamente, io la vedo più che sensata. Magari io non condivido chi all'età di 24, 25, 26 anni va in questi paesi e quindi chiude con il mondo del calcio, tipo come fece Giovinco, però lì sono scelta di vita. Magari Giovinco ha preferito i soldi alla sua carriera calcistica. Ma anche questa scelta è assolutamente legittima. Magari io posso non essere d'accordo, ma è importante che lui abbia fatto una scelta che lo fa stare meglio. Per lui sono stati più importanti i soldi, ben venga, la carriera è sua. Poi ognuno ha il suo giudizio e la propria opinione. Per dire, anche Messi, che dopo la vittoria del Mondiale ho sentito che prolungherà il contratto col Paris Saint-Germain fino al 2025, forse farà altri due anni a Parigi. Ma non escludo che anche Messi, magari arriva all'età di 37-38 anni, gli arriva un'offerta di questo tipo, che sia in MLS, che sia in Arabia Saudita, che sia in questi paesi dove il calcio conta poco, magari l'accetta e va a chiudere la carriera lì. Ma l'hanno fatto tantissimi giocatori e l'hanno fatto tantissimi campioni. Quindi l'ha fatto anche Ronaldo. Io non lo critico certamente per questo, ma lo critico perché certe cose, certe promesse, non devono essere fatte, semplicemente. Non bisogna parlare se non si può mantenere ciò che si dice. E quindi questo è il mio giudizio. Chiaramente, andando in Arabia Saudita, Ronaldo non si è ritirato, ma è come se si fosse ritirato proprio a livello meramente calcistico. Lì, una volta che va in quei paesi, sparisci dai radar, quindi si è praticamente ritirato. Un giocatore che, sapete bene, non mi è mai stato simpatico. Già prima che era alla Juve, ma ho sempre riconosciuto che è un grande campione e ha dato tanto al calcio. È innegabile, è oggettivo che sia uno che abbia dato tanto al calcio, ma per me non fa parte, diciamo, dei migliori in assoluto. Se parliamo di titoli vinti, allora lo è. Ma se parliamo di talento puro, per me non fa parte dei primissimi. Ce ne sono altri migliori di lui. Ma questo è un mio giudizio. Fatemi sapere il vostro giudizio su questa scelta di Ronaldo, se lo comprendete, se non lo comprendete e argomentate a dovere. Perché, diciamo, questo è un tema che ha diviso molto la folla, il pubblico, però chiaramente chi lo critica magari lo critica perché gli è antipatico. Chi lo giustifica, lo giustifica perché gli è simpatico. Mentre io credo che un buon opinionista deve restare al di sopra delle proprie emozioni, dei propri sentimenti. Per esempio, a me Ronaldo non sta simpatico e non è mai stato simpatico. Però, da questo punto di vista, per questa scelta, lo comprendo e lo giustifico. Anzi, dico che ha fatto bene. Ha fatto bene, ok? Gli critico soltanto il fatto di non parlare prima perché poi passano gli anni e ti ritrovi in quella situazione dove tu non ti saresti mai immaginato. Soltanto questo è l'unico appunto che faccio al giocatore portoghese. Vabbè, un saluto a tutti, vi auguro una buona giornata, lasciate un like al video, commentate il video, appuntamento a domani per la vigilia di Inter-Napoli. Si torna in campo, finalmente. Ciao!